Torniamo a parlare di Deadpool e Wolverine, c'è questo tormentone, Taylor Swift sì, Taylor Swift no. In chat prima ho visto reiterata quella che per me è una leggenda metropolitana, ovvero il fatto che Taylor Swift nel suo ultimo album abbia dedicato una canzone al personaggio mutante chiamato Dazzler. Non è vero, semplicemente a un certo punto nel testo di una delle sue hit utilizza il termine Dazzle che è un verbo inglese, è un verbo, una parola, è come dire attenzione hanno utilizzato la parola Venom, sì ma non è il signo, è veleno, nel senso è un altro modo, c'è poison, quindi no. No, quindi no. Se vogliamo trovare degli indizi sull'eventuale presenza di questa artista che ormai sta dominando in tutto il mondo, c'è la gente che sta facendo la fila un mese prima per vedere il suo concerto in Italia, non so veramente a cosa serve accamparsi un mese prima. Cosa fai per un mese? La tenda? Boh, lo fanno, contenti loro, contenti tutti. Se vogliamo trovare degli indizi più o meno palesi, beh c'è sicuramente l'amicizia tra Taylor Swift e Ryan Reynolds che addirittura presenziava con lei sugli spalti di una partita e non era neppure da solo. Assieme a lui c'erano Hugh Jackman e il regista del film, quindi dei contatti ci sono. Ryan Reynolds è solito giocare un po' con le sue conoscenze a livello di camei, parti più o meno improbabili. E se vogliamo nella giornata di ieri è arrivata una prova ulteriore, ovviamente fatemi ciò che volete, pinze, mica pinze, ma noi la vediamo. Perché Ryan Reynolds, se non erro nelle sue storie di Instagram, ha pubblicato questa immagine che stiamo per vedere. Che magari così vi dice poco, ma si tratta della parodia, della copertina di un album di Taylor Swift, Evermore. Magari qualcuno potrebbe dire, vabbè è un caso, alla fine sono due persone di spalle, ma nella storia di Reynolds, come canzone associata, c'era proprio Evermore di Taylor Swift. Quindi il riferimento è diretto. Perché farlo? È una simpatica trollata? Alla fine Deadpool è utile per parodizzare varie cose, vari elementi, potrebbe essere. Oppure stanno cercando di dirci per via traversa, noi il concetto Taylor Swift-Deadpool cominciamo un po' a instillarlo nelle vostre menti. Il dubbio che possa esserci oppure no, cominciamo a livello di subconscio a farlo penetrare. Nelle vostre teste, non c'è di più, c'è solo questo. A seconda del nostro punto di vista può essere rilevante, importante, oppure no. Io vi dico che, per il gusto anche del gioco e della scommessa, secondo me Taylor Swift c'è. Magari, attenzione, solo a livello canoro potrebbe aver realizzato una canzone per il film. Ricordatevi di Deadpool 2 con, era Celine Dion, mi sembra di sì, questa canzone commovente che introduceva la pellicola perché era morta la fidanzata di Deadpool e quindi c'era anche una parodia dei titoli di testa alla James Bond. Può essere questo il caso. O magari interpreterà un personaggio, credo molto piccolo. C'è chi ipotizza Dazzler, appunto, c'è chi dice Lady Deadpool. Io penso che ci sarà. Non so in quale forma, ma ci sarà. Scream. Allora, anche secondo me potrebbe tranquillamente apparire, però io starei un po' basso con la fantasia. Non credo, avrà chissà quale ruolo e chissà quale minutaggio. Sarà una cosettina brevissima. Tipo a Brad Pitt, come è successo. Una cosa di quel tipo. Può essere, sì. Esatto. Oppure potrebbero fare una cosettina interessante dove Telo Swift c'è, ma non c'è. Ottenendo i permetti di tutto il resto, visto che si parla di molti versi e vi discorrendo, potrebbe anche esserci una scena ambientata durante, nel mezzo di un concerto, che poi in realtà magari è su green screen, che non viene ricostruito in concerto, o ancora un viaggio in un universo nel quale Telo Swift è una supereroina, non una super cattiva. Cosa? E poi cambiano subito passaggio, perché non mi piace questo universo, chissà quale altra ragione. Cose piccole, semplici, anzi, ne ho incluse alcune non poi così semplici, però piccole. Quindi, non escludo, possa esserci Telo Swift, questo è il secondo film con più personaggi possibili, immaginabili, attualmente, diciamo, discusso, perché il primo è il Superman di Gan, di non si batte. Cioè, è praticamente un elenco telefonico tra i confermati possibili del discorrendo. Quindi, Telo Swift potrebbe esserci, non sarei sorpreso, ma io manterei basse le aspettative, non aspettatevi un ruolo importante, non aspettatevi 10-15 minuti di chissà che, cioè, sarà, secondo me parliamo di secondi. Però, intanto che andiamo avanti, io ti ho passato anche una notizia collegata a questa, su Facebook, che è un'esclusiva tutta tua per il Matioski Show. E beh, penso di essere mi spesso, intanto. Ah sì, l'ho già visto online, che purtroppo Massimo Boldi non ci sarà. Esatto, esatto. Eh, io l'avevo. La conferma, la conferma. Eh, mi spiace, ma... Io pensavo fosse una variante di Wolverine, ve lo immaginate Boldi con gli artigli? A livello di fisicurore sarebbe anche stato più credibile di Jackman, se pensate al ghiottone canadese nei fumetti. E invece, invece niente. Svet, dai, anche tu scommetti. Taylor Swift c'è? Sono per la... il cameo alla Brad Pitt. Mi dispiace che sia venuto fuori così presto, perché quel cameo di Brad Pitt era veramente tanto gustoso, proprio perché era inaspettato. E io sono veramente per una roba del genere. Ma veramente roba di un secondo. E con canzone annessa. Anche perché la parodia dell'album... probabilmente hanno chiesto una canzone in prestito, proprio da quell'album non si può mai sapere. Io, per quanto mi riguarda, se avessi Hitler, Stalin e Taylor Swift e una pistola con due colpi, spallerei due volte a Taylor Swift. Io odio quella donna, profondamente. Profondamente. È una... cioè, allora, per una serie di motivi etici e di simpatia personale, c'entra relativamente poco la musica. Ma... Infatti, fino all'ultimo ho sperato, ti prego, non me la metti. Però se si tratta di un... un cameo, perché no? Dai, ci sta anche perché... sì, ci può stare. Ci può stare, per quanto mi riguardava anche bene. Non datele cortesemente un ruolo di rilievo. Io mi ricordo che c'era un periodo in cui si vociferava che lei doveva diventare Lady Morte. Non vi permettete. Cioè, non osate. Non lo fate. Per favore, perché arrivo io e vi piscio sulle sceneggiature, se non la smettete. a qualcuno potrebbe anche piacere. Però mi rendo conto che sarebbe sconveniente. Non com'è, non solo com'è. Oddio, chi è il wrestler che ha cagato nelle borse delle persone? Randy Orton. Ah, non solo Randy Orton. Sì, ha avuto una fase un po' ribelle in cui ogni tanto la faceva. Ha cagato nelle borse delle persone. Sì, sì, trovavi gli stronzi di Randy Orton. Ma io anticipo un eventuale argomento che scatulirebbe in caso di presenza di Taylor Swift nel film e in caso di grande successo di Deadpool e Wolverine. Non credo che un cameo della stessa possa influenzare gli introiti della pellicola Marvel. No, no, no. Non credo che, soprattutto, se come immaginiamo, la sua presenza dovesse essere limitata, piccola, qualche secondo, un cameino, allora ciò smuoverà le masse. C'è un precedente storico abbastanza importante. Mi rendo conto che fosse il 2022, quindi il botteghino era un po' sfalsato, ma nel 2022, soprattutto in America, Taylor Swift era già un fenomeno inaudito. E vi parlo di un film che si chiama Amsterdam. Nel cast trovavamo proprio Taylor Swift che appariva anche nei trailer, a differenza di Deadpool e Wolverine, dove lei proprio a livello di marketing, se non per queste gag e siparietti, non c'è. Lei nel trailer parlava, ci puntavano un po', ma soprattutto nel cast di quel film avevamo Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Zoe Saldana, Mike Myers, Michael Shannon, Timothy Oliphant, Rami Malek e Robert De Niro. e Taylor Swift. Volete sapere quanto è incassato? Siete pronti? Vai. Intanto vi dico che comunque nel 2022 qualcuno riusciva anche a vivacchiare, tutto sommato. Nel 2022 ad esempio abbiamo avuto dei successi come quelli di Avatar, Top Gun, Jurassic World, Doctor Strange, Minion, Black Panther, The Batman, Torloven Thunder, insomma, la gente stava tornando, ok? Amsterdam, in tutto il mondo, tutto, 29 milioni e mezzo. Miseria. Farà di più Horizon di Kevin Costner. E mi dicono che il concerto è andato bene. Sì, è la dimostrazione che di Taylor Swift alla gente interessa la carriera musicale. Non ne frega niente di lei che fa l'attrice. Cominciamo ad uscire dall'ottica che io seguo quel personaggio siccome mi piace e lo seguo in tutto ciò che fa. Non è vero che Taylor Swift viene seguita in qualità di cantante, non in qualità di attrice al momento. Non è più così dove praticamente potevi stare dietro a tutto quanto e volevi stare dietro a tutto quello che faceva un determinato artista anche in diversi ambiti. Anche perché adesso c'è una saturazione anche per via dei social delle persone. cioè tu Taylor Swift la vedi veramente ovunque. Non te ne fotte un cazzo di vederla in un ambito che non sia quello musicale. Quindi non ha molto senso. Poi vabbè lo Star System è morto bla 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 tutto quello che volete per quanto riguarda il cinema. Per la musica grazie a Dio ancora no. Ma sì cioè la gente è satura. Anche i fan di Taylor Swift sono saturo di Taylor Swift. Cameo di Taylor Swift che peraltro laddove è presente sarà condiviso su internet a tempo zero. Quindi non c'è neanche quella molla quella volontà. Andate tranquilli. Se sarà presente è per fare una simpatica gag perché lei e Reynolds sono amici perché comunque fa ridere fa divertire. il film diventa ancora di più un evento pop ma non credo che alzerà l'asticella degli incassi solo tra dice lei. Cioè più che altro proprio per la sua popolarità è più una sorta di regalo per i suoi fan che un qualcosa per incentivare la visione della pellicola. Come se questa pellicola ne avesse bisogno tra l'altro. Infatti no non ne ha bisogno. Una ciliegina. se ci sarà sono anche pronto a scommettere e interpreterà il ruolo di se stessa e non un personaggio immaginario e roba così. Cioè è molto facile secondo me. Può darsi. Intanto leggo giustificazioni per il flop di Amsterdam che in realtà mi danno ragione ovvero ma Amsterdam era brutto tutto qua. Ok a parte che per sapere se un film è bello o brutto lo devi vedere. E questo allora dimostra che Taylor Swift presa da sola non incide c'è bisogno di un film bello. Oppure Amsterdam avrebbe floppato a prescindere da lei. Io non ho detto che ha floppato perché c'era Taylor Swift ho detto che la presenza di Taylor Swift non smuove nessuno in un film dove lei interpreta un personaggio in un film che magari a livello di genere non è equiparabile alla sua fanbase che è vastissima ci mancherebbe ma magari non tutti quelli che la seguono sono disposti ad andare a vedere nel caso di Deadpool un film vietato ai minori con parolacce riferimenti sessuali e squartamenti perché per dieci secondi c'era i che fa ciao che lo guardi su internet però visto che era un argomento vivace io lo sapevo per questo l'ho tirato fuori perché senz'altro quando Deadpool Wolverine farà incetta di incassi nel caso ci siano ma non è che merito di Taylor Swift no no